Pensione. Sogniamo tutti di andarci il prima possibile, ma la maggior parte delle persone non ha un piano per la pensione, non ha un piano per avere un reddito che gli permetta di mantenere inalterato il proprio tenore di vita quando vorranno o dovranno smettere di lavorare. Quindi in questo video approfondiamo il tema della pensione, cerchiamo di capire perché è fondamentale avere sotto controllo due numeri molto importanti della tua situazione previdenziale e lo facciamo prendendo spunto da un film che ha vinto il premio Oscar. Non ti anticipo molto, ne parliamo in questo video. In realtà il film a cui facevo riferimento nell'intro non è vinto uno di premio Oscar, ma ne vinti diversi ed è Nomadland. Film molto interessante, ti suggerisco di guardarlo, un po' pesante sotto certi punti di vista, ma che a me ha aperto la mente, un po' ti fa capire la realtà americana quanto può essere dura sotto certi aspetti e io la studio molto, la approfondisco, vado spesso negli Stati Uniti quando è possibile. Dall'altra parte però ti fa capire come certi atteggiamenti possono essere potenzialmente distruttivi o certe cose che una persona trascura nella propria gestione finanziaria nel lungo periodo possono veramente generare dei problemi molto gravi. In due problemi, non voglio spoilerarti il film, il film parla di una signora che si intuisce avrà tra i 60 e i 65 anni, in condizioni finanziarie molto difficili, che deve lavorare, fa dei lavori stagionali, sembra, e fondamentalmente vive di questi lavoretti stagionali, ma non ha capacità di reddito sufficiente per potersi permettere una casa. Quindi, in due parole, decide di vivere in un van, in un furgone. Puoi immaginare, non è un camper, è un furgone, ok? Quindi già i servizi igienici non ci sono. Un furgone parcheggiato per strada. Storia piuttosto dura, però è interessante perché ci fa capire, appunto, che questa persona di capacità di pianificazione finanziaria ne ha fatta poca. Non aveva grandi capacità di pianificare il proprio futuro finanziario, è un film, ma io l'ho visto venerdì sera, questo film. Ho guardato poi, viene menzionato un personaggio che si chiama Bob Wells, che è uno youtuber da mezzo milione di iscritti, prevalentemente negli Stati Uniti, che spiega, appunto, come vivere, come crearti il tuo minicamper in un furgone. Hashtag vanlife, van è furgone. Quindi c'è molta gente che per necessità, in alcuni casi anche per scelta, è un po' il fenomeno IP 2.0, ma per i giovani, ma per necessità, per quanto riguarda persone più avanti nell'età, è diventato un problema. C'è molta gente che non può più permettersi di vivere in un'abitazione, perché i costi fissi sono troppo alti, magari i redditi sono troppo bassi, ne parliamo tra poco, e quindi deve vivere in un furgone, ok? O in soluzioni più da campeggio. Ci sono anche degli aspetti interessanti di questo nomadismo, da cui il nome è Nomadland, che appunto queste persone girano un po' gli Stati Uniti e possono scoprire zone nuove, però sono spinti in questa condizione da un problema di sostenibilità finanziaria. Queste persone, nella maggior parte dei casi, vivono della Social Security, cioè dell'Inps, che negli Stati Uniti però ti potrebbe dare tipo l'equivalente di 6, 700, 800 dollari al mese. Negli Stati Uniti questa cifra può essere l'equivalente di 200-300 euro al mese in Italia, ok? Quindi vivere con 200-300 euro al mese direi che sia piuttosto complesso. Quindi queste persone devono arrivare a questo estremo, in termini di rivoluzione della propria situazione finanziaria, spinti da una condizione di necessità. Bene, dicevo che queste persone molto spesso si trovano in questa situazione perché non hanno fatto una giusta pianificazione finanziaria e devono vivere solo di quello che gli dà lo Stato, questa cosa chiamata Social Security che è l'Inps per noi. E in Italia? Questo problema è un problema solo americano o è un problema potenzialmente anche italiano? Cioè c'è gente che ha sotto controllo la propria situazione previdenziale, pensionistica e può dire io una situazione di questo tipo non la vivrò mai? Molte persone sostengono di sì, i dati sostengono qualcosa di diverso. La prima cosa che voglio mostrarti è questo documento di Luca Gualtieri che è un giornalista di Milano Finanza, ha la domanda ti sei chiesto quando andrai in pensione? Guarda le risposte. 18-29 anni? Non lo so ma mi interessa. Bene, è già un buon punto di partenza, almeno ti interessa. C'è anche comunque gente che dice non lo so e non mi interessa però almeno sono la minoranza. Come vedi il lo so è una minima parte, 31% delle persone tra 18 e 29 anni passa a metà della popolazione tra 30 e 39, tra 40 e 49 sempre metà della popolazione lo sa, quindi vuol dire che c'è un'altra metà che non lo sa quando andrà in pensione. Ma quello che secondo me è abbastanza inquietante è che tra oltre 50 anni c'è comunque un 35% di popolazione che non lo sa quando andrà in pensione. Magari gli interessa ma non lo sa. Che piano puoi fare sulla tua pensione se non sai quando andrai? Che è la risposta più semplice alla domanda, cioè per fare un piano previdenziale la domanda più semplice è capire quando vado in pensione. Cioè dobbiamo dare risposta a questa domanda. Un po' più complesso è sapere anche quale sarà il reddito che avrò in pensione, ok? Perché è un po' di più difficile avere questa risposta perché l'Inps o la tua cassa deve fare delle simulazioni. Quindi è più facile dare una risposta alla domanda quando andrai in pensione rispetto alla domanda con quanto, cioè andrai in pensione, cioè quale sarà il tuo reddito. Quindi queste persone, c'è comunque un 35% di persone oltre i 50 anni di età, vedi che scusami questi sono quelli che lo sanno, 100-64 fa 35 che non lo sanno, non sanno quando andranno in pensione, figuriamoci se sanno quale sarà il reddito in pensione. In aiuto ci viene anche un altro articolo di Wall Street Italia che dice pensione, gli italiani impreparati su assegni e hanno sull'età, scusami, quindi quando andranno in pensione e sugli assegni in termini di reddito in pensione e hanno aspettative realistiche. Leggiamo quest'articolo. Allora, per quanto riguarda le aspettative, 6 persone su 10 hanno un'idea ben precisa, 59%, l'abbiamo visto prima, ma sorprendente come il 30% dei cinquantenni non ci ha mai neanche pensato. Non lo so, sei anche potenzialmente 15 anni dalla pensione, non ci hai mai pensato. Un dato che dovrebbe far riflettere quanti all'avvicinarsi del fine carriera non hanno ancora ponderato quanto tempo gli rimane per l'età della pensione, come poterle eventualmente integrare. Perché? Perché una volta che sai quale sarà il tuo reddito in pensione, ok, 1000 euro al mese, spara una cifra, se la tua vita oggi che non sei in pensione costa 1500 euro al mese, vuol dire che quando andrai in pensione ti mancheranno 500 euro al mese. Integrare la pensione vuol dire questo, vuol dire avere dei soldi da parte che ti permettano di darti un reddito extra, reddito da investimenti, nella maggior parte dei casi, quando percepirai solo un reddito che sarà quello da pensione e non più il reddito da lavoro. Perché questo è importante ed è importante il caso di Nomadland, guarda questo figlio, sì questo figlio scusami, questo film te lo suggerisco, è che se tu vuoi mantenere inalterato il tuo tenore di vita quando sarai in pensione e perché le tue spese vuoi che rimangano 1500 euro al mese, l'unico modo è lavorare ed è quello che fa la protagonista, non può permettersi di smettere di lavorare. Un bel problema, cioè diciamo che io vorrei arrivare alla pensione in modo molto più tranquillo. Qui non stiamo parlando di, cioè potenzialmente uno se ha sotto controllo questi aspetti potrebbe anche puntare ad un pensionamento anticipato, ok? Ne parliamo in un altro video, magari fammi sapere nei commenti se ti interessa, perché si può, sono piani che i nostri iscritti a piano finanziario e che hanno accesso a pianifico al tuo futuro fanno e ci stanno lavorando, è qualcosa che si può fare. Quindi qui parliamo di sostenibilità finanziaria quando andrai in pensione, non cose molto elaborate come un piano di pensionamento anticipato che sicuramente richiede più studio e più lavoro, ok? A quale età piacerebbe smettere di lavorare? Domanda che è stata fatta in un sondaggio riportato in questo articolo. L'età alla quale coloro che hanno pensato, che ci hanno pensato, che sono pochi, cioè sono la maggior parte ma non, sono comunque il 60% circa, vorrebbero poter smettere di lavorare e per i ventenni in media circa 55 anni. Aspettative un po' irrealistiche vedendo quelle che sono le prospettive per la generazione, la mia generazione, i millennials o la generazione successiva, ok? Vuol dire che c'è molta gente che vorrebbe andare in pensione prima. Molta gente non ha sotto controllo questo tema, ma per di più vorrebbe andare anche in pensione molto prima rispetto a quelle che sono le norme attuali o la previsione di quale sarà la data del pensionamento futura per la nostra generazione, quindi aspettative totalmente irrealistiche. E quando invece prevedono di poter andare in pensione? Scusami, sì certo, questo è quando vorrebbero andare in pensione. Quando prevedono di andare in pensione? Solo 5 su 10 dichiara di sapere quale sarà quando andranno in pensione, il 50%. Il 35% degli ultracinquantenni non si è occupato, l'abbiamo già detto. Va bene, mi interessa il tema del reddito in pensione. Con quanto andrà in pensione? Alla domanda, che sarebbe bene non trascurare, come dicevo prima, è con quanto vorresti vivere al mese quando sarà in pensione? 3 persone su 10 non c'è ancora pensato. È un problema, ok? Deve avere sotto controllo le tue finanze oggi e stimare quanto sarà il tuo tenore di vita domani. Pianifica il tuo futuro il nostro percorso che ti guida nel farlo. Mentre 6 persone su 10 si sono almeno fatte un'idea. E va bene, ci sta. È un pensiero che ricorre un po' più spesso con l'avanziare dell'età. Certo, perché comincia a vederla lì vicino e comincia a farti delle domande. Ma questo, come ti spiegherò tra poco, più più tardi ti fai questa domanda più è un problema. Te lo spiego tra poco. Chi ci ha pensato parte da 1000 euro per arrivare a un picco del 25% di intervistati che desidererebbe 2000 euro al mese. Ok. E quanto prevedono di prendere in pensione? Si va da un minimo di 800 a un massimo di 3000. Quindi c'è una profonda differenza tra le aspettative, quello che vorrebbero le persone, e la previsione sulla base di informazioni, come possono essere le buste arancioni che sono state distribuite direi tra il 2015 e il 2016, che ti davano la prima previsione di età pensionabile e il reddito. E quindi è la realtà. C'è un profondo scolamento tra le aspettative delle persone e la realtà della normativa pensionistica e del sistema previdenziale. Che cos'è che solitamente rende le aspettative e la realtà una cosa unica? Allineano le aspettative e la realtà un piano, una strategia. Non è un caso che ci siamo chiamati quando abbiamo deciso di ricreare un nuovo brand, abbiamo chiamato piano finanziario questo brand. Perché serve un piano affinché le due aspettative coincidano con la realtà, ok? Un conto è un sogno, un conto è un piano per raggiungere un obiettivo. Quindi quello che emerge dalla situazione italiana è che le persone, analogamente agli Stati Uniti, hanno sotto controllo in modo molto marginale la data del pensionamento e il reddito che avranno in pensione. Queste sono le basi per creare un piano per poter integrare la pensione o puntare a un pensionamento potenzialmente anticipato. Perché? Perché in entrambi i casi deve avere del patrimonio che produca un reddito che ti permetta di dipendere meno dal reddito da lavoro, ok? Dipendere meno in percentuale se vuoi fare un'integrazione o dipendere totalmente se vuoi un pensionamento anticipato. Un concetto un po' più complesso, quello del pensionamento anticipato, magari ne parliamo in un altro video. Quindi se vuoi avere sotto controllo la tua pensione devi avere sotto, devi verificare questi due aspetti. È un po' complesso perché non è facile spesso reperire queste informazioni. Se vuoi maggiori informazioni su come poter creare un piano per creare una pensione serena, futura, che parta da questi concetti, ci contatti perché pianifica il tuo futuro, il nostro servizio che ti può guidare nel creare questo piano, che sia con noi o senza di noi, devi partire da questo... questa è l'ABC proprio, la data del pensionamento e il reddito. Quindi verifica con l'Inps, con la tua cassa presso la quale versi i contributi, ma si crea un piano partendo da questi due numeri. Poi tutto il resto è un qualcosa che si può costruire. Un importante punto prima di lasciarci, prima di chiudere questo video, è più tardi ci pensi, peggio è. Perché? Perché se tu ci pensi a 55 anni, probabilmente è troppo tardi per cambiare la situazione. Se tu ci pensi a 20, 25, 30... 20 magari non è ancora iniziato a lavorare oggettivamente troppo presto, ma se ci pensi a 30 anni, magari hai i 30 anni davanti per creare un piano di risparmio e di investimento. Puoi far lavorare il capitale per lunghi periodi di tempo e generare... far lavorare l'effetto composto che sai che aiuta gli investitori perché aiuta la rivalutazione del capitale e si manifesta non nei primi anni, ma soprattutto magari dopo il decimo, il quindicesimo anno, perché c'è appunto un'esponenzialità della crescita del patrimonio e in altre parole se tu devi risparmiare del capitale è più facile risparmiarlo su lunghi periodi di tempo rispetto allo scenario di risparmiare del capitale in tre anni. Potenzialmente oltre una certa data, oltre una certa età, tu non riuscirai più a integrare la pensione, magari se hai delle aspettative di integrazione molto alte, magari se vuoi 1000 euro in più al mese, potenzialmente potresti non riuscirci più. Quindi il tema della pensione è uno dei temi molto importanti perché ci sono dei treni che passano e quando sono passati delle opportunità non ci sono più. Le opportunità ci sono per chi fa lavorare il denaro per lunghi periodi di tempo e crea un piano il prima possibile su questo tema, sul tema previdenziale. Chiaramente nessuno può prevedere il futuro, quindi magari le regole previdenziali cambieranno, ma non puoi non pensarci perché presto o tardi smetterai di lavorare, vorrai o sarai costretto o desidererai smettere di lavorare. Insomma è illogico pensare che lavoreremo per sempre, uno perché non lo vogliamo, uno perché non possiamo, cioè certi lavori non si possono fare oltre una certa età. Quindi magari anche dei pensionamenti anticipati che magari possono essere anche spinti dall'azienda per cui lavori, magari ci sono a fronte di una riduzione del reddito, insomma a degli accordi che ci possono essere tra azienda e dipendente. Quindi quando si parla di pensione non vincoliamoci solo a pensarla come aspetto la data in cui andrò in pensione, ma come nelle scene di Fantozzi, dei film di Fantozzi. È qualcosa che sta diventando sempre più fluido, quindi puoi creare dei piani per magari puntare ad un pensionamento anticipato per integrare la tua pensione, ma li dovrai aggiornare perché la normativa cambia. Ma un conto è aggiornare un piano su cui stai già lavorando da dieci anni e chiaramente lo adatti, lo migliori, lo perfezioni al mutare delle condizioni. Un conto è svegliarsi a 50-55 anni e capire che devi fare qualcosa. In quei casi lì potenzialmente potresti non recuperare più una situazione che magari è già compromessa. Fammi sapere nei commenti se hai sotto controllo la tua data del pensionamento e quale sarà il reddito e se vuoi maggiori informazioni su come ti possiamo aiutare nel creare un piano, queste informazioni le puoi verificare autonomamente ma sono la base di un piano come quello che ti aiutiamo a creare con pianifica al tuo futuro. Se vuoi maggiori informazioni contattaci 800-685-500 perché è un tema su cui siamo molto forti e possiamo guidarti come abbiamo aiutato e guidato altre centinaia di persone che hanno avuto accesso a questo servizio. Fammi sapere le tue considerazioni nei commenti. Con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Ciao! Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao! Pianofinanziario.it! Dai, dai!